Il corteo è partito dallo stadio Philadelphia, io so che è una vicenda che la fa soffrire. Molto, mi fa soffrire molto perché sono state dette tante cose ingiuste, campagne di stampa come se io fossi l'attila che un mattino mi sveglio e dico adesso demolisco il Philadelphia. La Philadelphia l'abbiamo dovuto far demolire perché c'erano delle grosse responsabilità penali, non civili. Se un bambino mi restava sotto cosa facevo?